e salve a tutti youtubers qui calico 84 e bentornati su five night at freddy's 4 siamo alla terza notte e il mio terrore aumenta ogni volta che ripeto un livello ok vediamo di finire questa notte e provare a dormire perché dubito che dormirò questa notte avrò di incubi si comincia ok iniziamo già molto male ok nessuno oddio sto già avendo gli incubi ho già avendo i brividi nessuno dietro sarà pieno di mostri orribili mostruosi che mi uccidono sto sentendo tantissimi passi ancora niente ok niente quello era foxy quello era foxy oh cazzo era era foxy quello oddio oh mamma mamma ok nessuno oddio che casino quello era bonnie ho sentito benissimo oh caspio sto per essere assaltato da foxy vero no no oh cielo oh cacchio ok ok è dentro sto per essere ucciso sarò ucciso da foxy foxy mi mangia foxy mi uccide ok 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 si è rimesso a posto oddio ok ok non credo che sopravviverò non penso proprio che ce la farò nessuno ok oddio oh no no è troppo oh cappio oddio oddio non ce la farò mai non posso farcela ho sentito comunque gli spoiler stanno già iniziando a uscire e a quanto pare in questo episodio si scopre chi è che ha fatto il morso dell'87 mi chiedo veramente chi lo scopriremo vedrete maledetto cupcake ho sentito ho sentito è arrivato quanto devo stare per resettarlo quanto devo stare per resettarlo ok è diventato un pupazzetto stupido ok si stanno per spegnere le luci oddio cicatel il tuo maledettissimo cupcake ok ok rimani lì rimani lì rimani lì ancora un po' ancora un po' ancora un po' torna a essere un pupazzetto perfetto così deve essere sparisci ora dobbiamo pensare al cupcake ok è successo niente tutto a posto ok andiamo da te ok può bastare ok vai via cicatel nessuno ti vuole ti odiamo tutti tutti quanti nessuno escluso anzi io più degli altri ce la facciamo ce la facciamo ah è brutto oh cacchio è tornato ok torna indietro a ciò che eri una volta ok forza forza ok sono le tre ce la possiamo fare ho visto qualcosa di strano niente ok sono le quattro ce la possiamo fare no non ce la posso fare moriremo tutti moriremo moriremo sicuramente tutti vai via di qui nessuno ti vuole bunny bunny ok presto 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 ok forza forza ce la possiamo fare ok ok presto 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 oh ok fare presto presto Ce la possiamo fare? Ok? Oh, grazie. Oh. Wow. Perché non è festoso ogni volta che succedono ste cose? Oh, due giorni a parte. Ok. Lui ti odia. È reciproco. Non ti preoccupare, è reciproco. Devi alzarti. Può uscire questa volta, ma devi correre. Dov'è il tuo peluso giocattolo? Il mio è Spring Bonnie. Mio padre dice che devo stare attento con lui o mi pinzerò le dita. È un finger trap, dice. Chi è quello lì dietro? Eh? Chi è? Sento che quello è tipo... Non lo so cosa. E di lì non posso andare a quanto pare. Quindi andiamo a sinistra. No! Non ricordi quello che hai visto? L'uscita dall'altra parte. Corri e scappa. Eh, io sono scappato, ma... Non può... Aiuto? Oh! Salve, bambina. Dovresti stare attento, sentito che prendono vita durante la notte. E se muori, loro nascondono il tuo corpo e non lo dicono a nessuno. Perché sembri così preoccupato? Ci vediamo al party. Minchia bambina, sei proprio gentile. Ciao, Freddy. Il mio unico amico, Freddy, col cappello viola. Oddio. Ciao. Sei il ragazzo che si nasconde sempre sotto il tavolo e piange? Ha, ha, ha. Nessun altro è spaventato. Perché lo sei tu? Smettila di fare il bambino. Dirlo mentre c'è un Freddy che mi spia da sotto un tombino! Complimenti, eh! Bravo! Sei proprio sveglio, amico! Bravo, bravo! Sento che... Ti apprezzo il centro con... Oh, Ball... Ciao, Balloon Boy! Andrai al party? Tutti quanti vanno al party. Oh, aspetta. Tu devi andare. È il tuo compleanno. Ha, ha, ha. Ok. Ce l'hanno tutti con me da queste party? Ciao, Freddy, viola. Ciao. Ok. È molto inquietante. Oddio, sono tornato a casa. Sta' attento. Ciao, Freddy, che mi osserva. Ok. Perché sento che nella mia stanza succederà qualcosa di bruttissimo? Ancora? Ah! Cioè, riuscire a essere spaventato dalla grafica dell'Atari, ce ne vuole. Ok? Ok. Vediamo se riusciamo a fregarci Plush Trapman. Nei dubito. Comunque, signori, lo vedremo nella prossima puntata, se ce la faccio. Il video finisce qui, spero che vi sia piaciuto. In tal caso, cliccate se mi piace, commentate, iscrivetevi al mio canale per altri video. E ci vediamo alla prossima, che sarà subito adesso, perché mi restano 30 secondi. Ciao! Ciao a tutti, sono Metatron e sono in Depth. E Kalec è affamato. E quando è... Wow. Il paesaggio è... veramente fantastico. E Kalec è... E Kalec! E Kalec! E Kalec!